Il giovedì santo del Vescovo di Salerno inizia tra le mura del carcere di Salerno dove Monsignore Andrea Bellandi si è recato questa mattina per presiedere la Santa Messa e nel corso della celebrazione ha effettuato anche la lavanda dei piedi ai detenuti e al personale della Polizia Penitenziaria. Su eccellenza donate dei denuti anche delle pastiere in collaborazione con l'ufficio della pastorale carceraria presieduta dal cappellano della casa circondariale Don Rosario Petrone. La liturgia della settimana santa secondo me è la liturgia più ricca di simboli e i simboli dal greco su un ballo sono quelli che che uniscono e anche questo questo simbolo della pastiera non ha fatto altro che unire ancora di più la comunità esterna con la comunità interna il dentro e il fuori in questo periodo molto molto particolare molto sentito perché poi il periodo delle feste è molto sentito appunto dai detenuti come lei diceva è molto sentito soprattutto per la lontananza dai propri affetti. Diciamo che è il messaggio che ogni uomo ogni donna vuol sentirsi dire vuol sentirsi pronunciare verso verso se stessi perché è il messaggio dell'amore del perdono della misericordia che non c'è nulla che possa essere una barriera troppo troppo direi forte per impedire di cambiare e di essere rimessi nelle condizioni per vivere. Siamo ormai nella settimana santa e di ieri la notizia che bisognerà indossare la mascherina anche per le processioni. Sì direi che è una precauzione intelligente ragionevole perché ancora il virus gira e credo che insomma non sia un gran disagio ecco con una attenzione da parte di tutti forse ci abbiamo a un'estate più tranquilla. C'è un messaggio in particolare che vuole inviare a tutti per la Pasqua? di pregare la Madonna Regina della pace perché abbiamo bisogno di pace e bisogna fare tutto il possibile a partire dalla preghiera per fra virgolette costringere i potenti ad avere a cuore il bene di tutte le persone soprattutto i più deboli.